VIVERE FORMAT TV 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 sono quelli che poi hanno più probabilità di finire anche in percorsi di devianza, se si possono dire così. Ecco, volevo coinvolgere anche Lucia alla nostra conoscenza di ispezione scolastica. Parlando un po' anche dell'associazione, come aiuta questi ragazzi poi a ritrovare l'equilibrio, diciamo? Allora, la nostra associazione ha la fortuna comunque di abbracciare vari ambiti e vari settori. Questo aiuta tantissimo, soprattutto come diceva prima Roberto, noi siamo in classe, siamo a scuola, quindi si parte già dalle medie. Dopo i stessi ragazzi li vediamo alle superiori. Questo ci aiuta tantissimo con il linguaggio formale, quindi istituzionale, a scuola. Gli stessi ragazzi poi li vediamo in strada, in un ambiente totalmente informale. Li vediamo in luoghi di divertimento, di aggregazione. Abbiamo molti progetti anche attualmente che trattano il divertimento sicuro. Cito magari il progetto Bella Presenza in collaborazione con le scuole e con i gestori delle discoteche. Questo metodo del linguaggio formale e informale aiuta tantissimo la relazione di fiducia che si va a creare con il ragazzo. E quindi in questo modo abbiamo l'opportunità di abbracciare appunto il ragazzo in vari ambiti, a scuola, in contesti di divertimento, eccetera. Ecco Lucia, cosa rischia il ragazzo se non viene recuperato nei tempi giusti? Se alcune opportunità si perdono, bene o male, grazie a varie modalità, c'è modo comunque di formare il ragazzo attraverso altri percorsi. Penso ai percorsi di formazione, penso ad altre opportunità. Tutto sta nel cogliere le motivazioni, le volontà che il ragazzo magari spesso non dice. Quindi bisogna cogliere quello che il ragazzo ha in mente e spera di fare per se stesso. Ecco Roberto, oltre gli operatori, qual è il ruolo che gioca anche la famiglia e le istituzioni come la scuola in questa problematica? Andiamo sulla famiglia e sulle istituzioni, però vorrei riprendere una cosa importante che ha detto la Lucia, il discorso della relazione di fiducia. Nel momento in cui il ragazzo prende fiducia con un adulto di riferimento, allora si apre, si attiva e si possono fare tutti i percorsi possibili e immaginabili. Il discorso della famiglia è chiaro, deve essere coinvolto già all'inizio, nella fase dell'orientamento, voglio dire, nella fase dell'orientamento bisogna tener conto del giudizio orientativo che danno gli insegnanti e la famiglia, ma anche a volte delle condizioni sociali della famiglia. Bisogna spiegare che se un ragazzo prende un liceo, se si prende il liceo vuol dire che dopo si va a fare l'università, non è che dopo si va a fare qualche altra cosa e quindi è un percorso lungo. Anche se vedo, almeno per le esperienze fatte, che quello del coinvolgimento da ultime delle famiglie è sempre un pochino in nodo quello più critico di questo orientamento e di questo argomento che è la dispersione scolastica. A livello territorio aretino, Arezzo, quanto serve poi il vostro operato anche alla zona? Come dicevo prima, su Arezzo incomincieremo, ci ho lavorato ma un pochino, come si dice, in modo marginale. Almeno noi abbiamo lavorato molto in Val di Chiana, nella zona sociosanitaria della Val di Chiana, dove abbiamo contribuito, lo possiamo dire tranquillamente, con forza, certe volte, a non far chiudere delle scuole superiori, andando a recuperare in strada quei ragazzi che non andavano a scuola, quindi contattandoli uno per uno in strada e riportandoli a scuola. Il lavoro però che facciamo quando si fa l'orientamento, noi vediamo che i ragazzi acquisiscono quelle capacità di maturare una scelta che poi gli serve anche quando devono fare le scelte più in là nella vita. Per esempio i ragazzi che vanno in un tecnico e al terzo anno devono scegliere l'indirizzo da fare, oppure i ragazzi che dopo la qualifica di un professionale se devono continuare a scuola oppure no, addirittura fino ad arrivare all'orientamento, alla scelta dell'università in quinta superiore, oppure al discorso del mondo del lavoro. Ecco Lucia, poco fa Roberto ha detto che in Valdichiana soprattutto l'isprezione scolastica si è quasi azzerata, anche se rimangono ancora delle piccole percentuali. Quanto merito va anche la vostra associazione per questo grande lavoro che è stato svolto? Parlando della Valdichiana, in particolare mi riferisco a Castiglione Fiorentino, perché è un progetto che da anni seguo in modo accurato, devo dire che il nostro contributo è stato molto favorevole. Questo ovviamente in collaborazione alle istituzioni che ci hanno permesso di lavorare sul territorio, anche avendo una continuità comunque importante, e questo ha fatto sì di creare una bella rete. Cito il progetto Safe Street che abbiamo fatto a Castiglione Fiorentino da due anni, si tratta di orientamento scolastico e lavoro di educativa, animazione di strada, e questo ha portato dei buoni frutti. Tuttora continuiamo a lavorare con questo progetto, addirittura abbiamo una proiezione triennale, e questo con altre associazioni, e quindi abbiamo avuto modo di rafforzare maggiormente questa rete. Ecco, dopo la pubblicità, che tra poco manderemo, parleremo anche di come è nata l'associazione, e di quali sono i progetti di cui vi vedremo protagonisti nei prossimi mesi. Quindi adesso un po' di break e poi nuovamente insieme per la seconda parte di Vivere. Eccoci in studio per la seconda parte di Vivere, con Roberto e Lucia Operatori dell'associazione Dog dentro Orizzonti Giovanile. Roberto, prima di parlare della vostra associazione, parliamo dell'ambito scolastico. Cosa possono fare le scuole, cosa devono fare le scuole per evitare appunto questa dissociazione degli alunni da esse? Guardi, una delle cose principali che noi abbiamo visto è quanto c'è la motivazione da parte di un dirigente scolastico che poi individua degli insegnanti che hanno voglia di lavorare su quell'argomento e tutto l'istituto insieme lavora in quella direzione, vuol dire, arrivano degli ottimi risultati. Certe volte già se si entra in un istituto e c'è la demotivazione di chi ci lavora dentro, parlando anche dell'addetto alle pulizie, questo viene trasmesso anche ai ragazzi. Però da ultimo noi stiamo notando che i ragazzi, voglio dire, vengono a scuole, in tante scuole, non capiscono perché stanno lì tante ore, tanto tempo, e magari delle volte gli fanno fare uno stesso argomento anche più anni a fila e non capiscono perché, perché dicono una volta che ho acquisito le competenze su un argomento, perché dopo lo devo ripetere? Quindi penso che sia pensabile, sì le scuole possono fare questo, ma tutto il sistema della scuola andrebbe un pochino rivisto, perché tutto sommato è fermo lì da tanti anni, si sono fatte delle riforme scolastiche, ma c'è stato pochi cambiamenti praticamente. L'unica cosa che io dico che è stata importantissima è stata l'alternanza scuola-lavoro, laddove viene fatta per bene, è una porta di accesso al mondo del lavoro, laddove il ragazzo si impegna proprio nell'esperienza che fa. È una cosa importantissima soprattutto per i professionali e anche per i tecnici, voglio dire. Quindi, certo, limitare forse tutta la scuola, cioè fare 11 anni tra le elementari, le scuole medie e praticamente le scuole superiori, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, incomincia a essere un po' troppo. Forse bisognerebbe un pochino anticipare i tempi, bisognerebbe fare arrivare un ragazzo a una qualifica che gli apre il mondo del lavoro forse già a 16 anni, e poi arrivare un diploma qualche anno prima e a quel punto valorizzare un pochino l'ITS, cioè l'istruzione e formazione che ti permette di entrare in un mondo del lavoro da un punto di vista professionalmente abbastanza elevato. Cioè, sono tutti argomenti da mettere insieme che francamente vanno a incidere poi alla fine su che cosa? Sull'argomento iniziale che abbiamo trattato, sul ragazzo. Perché noi abbiamo messo l'attenzione, il focus sul ragazzo, un po' sulla famiglia, ma poi tutto il sistema che ormai è arrivato il momento che si deve interrocare su dove deve andare la scuola, in che direzione e soprattutto i suoi rapporti col mondo della formazione professionale e col mondo del lavoro, che sono strettamente connessi. Spesso queste tre aree parlano da sole, cioè vedono soltanto il loro, come si dice sempre, ambito, quello professionale, quello della scuola e quello del mondo del lavoro, invece non si è capito che è tutto collegato tra i sei. Quindi si deve creare una rete fra le varie istituzioni per poter poi permettere ai ragazzi anche di procedere oltre al mondo lavorativo, anche continuare anche a studiare, perché no? Ma questo è fuori di ogni dubbio, guarda, è sempre strano. Noi in seconda media già parliamo del mondo del lavoro. E voglio dire che quei ragazzi non sono interessati. Lo riprendiamo in terza media, perché i ragazzi fanno l'orientamento. Ma quei ragazzi che non sono in terza media, dicono che il mondo del lavoro chissà quanto arriverà, quelli faranno le prime esperienze in un mondo del lavoro dopo due anni che hanno lasciato la scuola media, perché qualcuno in seconda, qualcuno in terza superiore già fa le esperienze lavorative. Quindi è un argomento da trattare, tenerlo fuori, fuori e parlare soltanto, vado a fare quella scuola perché a me piace quella materia, quell'indirizzo, piace quell'istituto, perché me l'hanno detto i miei genitori, è riduttivo e soprattutto aprire al ragazzo non solo il mondo della zona, delle nostre zone bellissime e tutto il resto, ma quell'italiana e quello europeo. Cioè, quando dice un ragazzo, gli chiediamo più delle volte, secondo voi c'è il lavoro o non c'è il lavoro? Insomma, i ragazzi lì per lì vorrebbero subito dire non c'è il lavoro, ma dopo un po' incominciano a dire aspetta, vediamo, per chi c'è, per chi non c'è, per chi ha voglia di lavorare. Perché noi è vero che qui in Italia oggi abbiamo tante persone disoccupate, ma è anche vero che buona parte di queste persone disoccupate, se non si formano per bene non sono adatte al mondo di lavoro che c'è oggi. Poi se noi andiamo a vedere anche in diretta in questo momento un sito quale EURES, che è il portale più grande della mobilità professionale europea, vediamo in questo momento che magari ci saranno 3 milioni di offerte di lavoro. Allora dico delle volte di cosa parliamo e cosa trasmettiamo ai ragazzi? Cioè, se gli trasmettiamo delle sensazioni negative diranno che tutto va male, ma se già gli incominciamo a far vedere queste cose saranno motivati anche nello studio e non penseranno neanche lontanamente di abbandonare la scuola quando vedranno che un titolo di studio è il primo accesso al mondo del lavoro. E senza il titolo di studio l'accesso al mondo del lavoro non ci sarà, perché la richiesta di lavoro passerà attraverso i portali e su un portale ci sarà sempre scritto su un annuncio di lavoro se richiede il diploma di... Volevo con te anche proseguire, continuando questa osservazione e anche lanciando un po' una provocazione. L'orientamento, oltre dalla scuola e per il ragazzo, secondo te potrebbe essere anche rivolto alla famiglia? Perché molte volte si vede la famiglia come organo decisionale anche del futuro del ragazzo. Io dico che è fondamentale, perché quelle poche esperienze che abbiamo avuto con la famiglia abbiamo visto come le cose che si dicono ai ragazzi tante volte vanno dette anche alle famiglie, che spesso anche le famiglie rimangono sui luoghi comuni e spesso noi abbiamo questa antenna sociale perché quando dalle parole che ci dicono i ragazzi a volte si capisce anche gli argomenti che sono in famiglia, che si trattano e spesso sono argomenti di luoghi comuni e che quindi più se ne parla meglio è. La famiglia è una parte integrante, importantissima, voglio dire, di questo percorso. Ne vediamo noi praticamente in qualche scuola, soprattutto in dei professionali, come la mancanza della famiglia poi crea dei problemi anche rispetto allo studio, rispetto alle modalità di comportamento delle persone e appunto è che favoriscono poi, quello che è l'argomento iniziale, un percorso verso la devianza. Io adesso andrei direttamente da Lucia per aprire il discorso legato all'associazione. Quanti anni fa è nata e come è nata l'associazione DOG? L'associazione DOG è nata nel 98, lontano 98, quindi abbiamo una bella esperienza anche storica della nostra associazione e nel corso degli anni ha trattato vari ambiti. Parliamo di disagio giovanile, di dispersione, ma anche raccontandole in modo positivo, di divertimento sicuro, di aggregazione. Ecco Lucia, possiamo dire che la vostra associazione non è solo un'associazione territoriale ma che si lega molto anche a progetti regionali e nazionali? Assolutamente sì, abbiamo progetti sia locali e territoriali, ma anche abbiamo l'opportunità di fare formazione, di spostarci anche a livello regionale. Faremo delle formazioni ora nei prossimi mesi in Campania, in Sicilia, questo perché nel corso degli anni una delle priorità della nostra associazione è stata quella di creare rete, quindi coinvolgendo partner, istituzioni e in questo modo credo che sia l'arma vincente per creare un contesto educativo unico. Roberto, ovviamente la situazione non si occupa solo di ispezione scolastica ma anche altri rami all'interno di essa. Sì, storicamente abbiamo progetti forse da quanto siamo nati, insomma come associazione con le ragazze di strada, le sex worker. Da ultimo abbiamo un progetto con i clochar, voglio dire, quindi spaziamo in tanti ambiti. È chiaro che però non facciamo un lavoro di pura assistenza, ma anzi ci chiedono un lavoro, diciamo sì, un salto di qualità. Faccio l'esempio, quando si parla di clochar, parliamo soprattutto dei progetti ultimamente su Arezzo, ma anche e soprattutto a Grosseto, non ci chiedono di andare a portare delle cose alle persone che sono in strada, ma ci chiedono di fare uno screening, di andare a vedere quelle persone che in strada sono recuperabili in un percorso di formazione, di orientamento al lavoro, oppure addirittura di riprendere il percorso scolastico. La stessa cosa con le ragazze di strada, stiamo a spiegargli quali sono i loro diritti, stiamo a spiegargli in che modo possono curare la propria salute, prevenire eventualmente e se è il caso accompagnarli anche in un percorso di fuoriuscita. Quindi per fare questo lavoro bisogna avere una professione da forte, competenze forte e soprattutto bisogna stare sempre aggiornati e sempre sul campo, perché alle volte in questi ambiti che stiamo parlando basta starne fuori un anno, due anni, che le cose sono cambiate completamente. Ecco, data la tua esperienza, anche quella poi di Lucia, quando un soggetto è recuperabile, entro quale tempo, entro quale lasso di tempo? Chiaramente noi facciamo riferimento alla nostra esperienza, ma noi vediamo che se una persona in strada riusciamo a recuperarla nei primi sei mesi, a contattarli, a staurare un rapporto di fiducia, a farle fare le prime politiche attive del lavoro, che potrebbero essere anche semplicemente, voglio dire, un corso di informatica, oppure incominciare a vedere come cercare il lavoro, come usare i siti, i portali, come vanno letti. Voglio dire, nei primi sei mesi le probabilità di riuscita sono abbastanza alte. Fermo restando che però questa persona magari si è tenuta un pochino dal punto di vista della salute abbastanza bene, che non sia andato con un utilizzo dell'alcol, un uso dell'alcol spropositato, oppure un uso di sostanze pesante abbastanza esagerate. In quel caso diventa più complicato, altrimenti se la persona, tutto sommato, è soltanto una mancanza di lavoro, un momento di difficoltà economica, sta in strada da pochi mesi, è facilmente recuperabile. Ecco, in conclusione, può una famiglia oppure anche un soggetto istituzionale e non che ci sta guardando contattarvi? Se sì, in che modo? Ci possono contattare se vogliono sapere delle cose riguardo i nostri progetti, riguardo le nostre esperienze nel mondo del lavoro, sapere in che modo noi lavoriamo in questi ambiti e riportare la nostra esperienza. Questo sicuramente, non c'è discussione. Poi, se ci sono discorsi che chiedono di intervenire, come tante volte già ci chiamano e fanno, è chiaro che questo lo possiamo fare solo e soltanto nell'ambito dei progetti che abbiamo in essere e che ci hanno finanziato. Non è che possiamo andare a fare delle cose perché la mattina ci svegliamo e dice ora andiamo lì a fare qualche cosa. Al massimo questo lo possiamo fare per fare una trasmissione televisiva come quella di stamattina. Ho chiamato alle 8 alla Lucia e gli ho detto svegliati che dobbiamo andare a fare un'intervista con Arezzo TV. Ultima posizione anche con Lucia. Come si diventa operatori dell'associazione Dog? Aiuto. Le domande difficili toccano a me. Allora, come diceva prima Roberto, è un lavoro particolare, anche creativo a volte, ma bisogna avere una certa propensione anche caratterale rispetto ai contesti e comunque trattiamo poi tanta formazione ma il focus dove voglio mettere l'attenzione è quello di restare sempre continuamente in aggiornamento perché come diceva prima Roberto può passare comunque anche un breve periodo di tempo ma le cose oggigiorno cambiano in modo veloce quindi è bene aggiornarsi continuamente, avere voglia di scoprire e comunque di mettersi in gioco. Poi l'esperienza è quella che fa un po' da padrone. Passo la parola a Roberto. Una battuta? Sì, una battuta. Volevo aggiungere due parole magiche per noi che è peer education. Cioè noi nella maggior parte dei nostri progetti, con i ragazzi, facciamo dei piccoli corsi di peer education con dei moduli e in questi corsi là si vede di già chi in qualche modo può un domani fare l'operatore di strada. Grazie Roberto per l'intervento. Io saluto Roberto Lorelli per essere stato con noi insieme a Lucia D'Aprea. Noi ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata di Vivere. Ricordiamo che siamo in collaborazione, anzi in aiuto del CESVOT che sin dall'inizio ci ha fornito contatti e argomenti per poter parlarvene in questa trasmissione. Grazie, settimana prossima. Grazie.